Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma 104.5 FM Let's begin, let's begin Paolo Roberto Di Carlo Chi arriva qui come ospite invece ha fatti sentire Come detto prima gli ho presentati Gli ho fatto una bella sviolinata devo dire Yes, yes Sono i Family Connection Che voi li vedete io già lo capisco che stile fanno Perché soltanto dal look si capisce che fate rap e pop giusto? Esatto Rap o hip hop? Facciamo rap e pop, reg solo, R&B, funk Chi più ne ha più ne mette Allora io li sentirei dire Anzi non sai che ti dico perché i ragazzi qua mi piacciono Ce li sentiamo adesso Dopodiché li rimandiamo un attimo a posto come a scuola E li richiamiamo dopo così chiudiamo in bellezza Per continuare comunque a indovinare le quattro sigle Se ce l'avete lì e lo volete dire 800-039-036 Se trovate occupato Abbiamo un ascolto da mare Perché ci sono io Se trovate occupato Chiamate Cioè richiamate, richiamate, richiamate Perché poi le linee sono occupate Succede Allora vai che andiamo a sentire i talenti della notte romana Con quale discorso? Allora presentiamo i, come dite, i Family Connection Ci canteranno dal vivo La canzone E se la musica Quindi li presentiamo come talenti di By Night Roma Allora sono i Family Connection E questa è se la musica GGG Radio By Night Roma Presenta i nuovi talenti della notte romana Yes, yes, ah, ah Live By Night Roma Family Connection on the stage Stay tuned Bless, bless, yo Ok Ragamanna style Oh, oh, oh Più stile Più amore Ok Sta così Che posso fare Se mi trasmette Nove sensazioni E poi mi libera la mente Lascio pilotare su di un palco e tra la folla Lascio andare il tutto il pensiero che decolla Scrivo nove strofe su di un palco Music is my life E tutto questo è quello che io voglio Niente di più io credo In tutto questo credo Io scrivo solo il vero Spero che ti piaccia almeno Anche se poi vado dritto Guardi non mi freno Anche se qualcuno può dire Puto non scemo E se la musica rimane tutto quel che ho Allora chiuso a chiuso con la testa Morgfaya E se la musica rimane tutto quel che ho Allora chiudo gli occhi e già lo so che scriverò Se la musica rimane tutto quel che ho Allora chiudo gli occhi e già lo so che scriverò Se la musica rimane tutto quel che ho Allora chiudo gli occhi e con la testa viaggia un po' Stacco la spina Mi lascio andare Come sempre volto pagina pronta a ricominciare La mia mano prende fuoco Mando il beat in loop e pronti via Che si riparte con un testo nuovo Lascio che sto suono strano mi rapisca Spero che buongiorno questo sogno si esaudisca Sette su sette tutta la settimana Oltre alla passione ci sbotassi un po' di grana Ma non è facile lo so Non che non mi scoraggio Vado avanti e sto nel mio viaggio E ci rimango Questa è la mia vita e tranquillo che non mi stanco Tranquillo che Tranquillo che io non mi stanco no Tranquillo che Tranquillo che io non mi stanco no E se la musica rimane tutto quel che ho Allora chiudo gli occhi e con la testa viaggia un po' E se la musica rimane tutto quel che ho Allora chiudo gli occhi e già lo so che scriverò E se la musica rimane tutto quel che ho Allora chiudo gli occhi e con la testa viaggia un po' Family Connection On the stage More fire More treva E già lo so che scriverò Oh 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 Family Connection Oh Oh Family Connection Raccamanna style Gia Oh Family Connection Fa 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 Fammi le 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 More fire Ok That's yes yo Ah ha Say 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 Ok Family Connection Più ragazzi Ce trovate su Facebook Ce trovate su Youtube Ce trovate su MySpace Redars Nation Family Connection Con la Gappa Ok Mi raccomando FK2 Oh 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 More fire Say Yo yo No a me piace alcune volte Sentire il significato Conoscere il significato di alcuni modi di fare degli uomini rap freestyle Ti va ad essere il top most fire Più fuoco più fuoco più salone Ah esatto eh esatto eh Per esempio poi c'è ragamanna Ragamanna style Ragamanna che vuol dire? Che fa raga insomma Ah ok c'è Ragamanna No perché magari uno è abituato a sentirli in questi modi di dire però non va a far caso Molto del sol Molto del sol esatto Esatto No ragamanna Insieme è romanaccio Ma perché in romano si sposa bene Poi che altri Sì Posso Come no? Di questo pezzo è uscito anche il video Si può trovare su Youtube Basta cliccare Family Connection E se la musica Official video Da dove venite voi proprio? Da Roma Roma dove? S Allora Torpignattara Laurentino 38 Ah e poi l'ultima cosa Il cappello portato come lo porti tu Quello dei New York Yankees Giusto? E portato un po' Un po' Un po' storto Vabbè c'è una sola parola È stile Chi è stato il primo Chi è stato il primo Degli italiani rap A portare il cappello così Secondo Cioè Mo' mi chiedi troppo Eh però uno dei Io un po' Un'idea ce l'ho Giovanotti Esatto No 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 Eh dai E lo so che Giovanotti Tu non pensi che è un rapper Ma Per chiarità Adesso forse no Prima sì però insomma Va bene Vabbè qua è il promotore Beh parliamo di Insomma di fine anni Cioè I primissimi anni 80 eh Quindi lui Almeno Beh è partito Qualcosa da lì sarà partito Sicuramente Qualcosa da lì è partito Invece voi da cosa prendete E' un po' Spunto In questo Stile Cioè comunque nel rap No Beh sì Sì diciamo di sì Anche se Però il commerciale stile Fabri Fibra Ormai è diventato Io Ha detto una cosa brutta No lo so No perché Guardate ti spiego Ah non ti piace eh I miei amici che ascoltano Ci sono delle fazioni Tra i rapper No perché Fazioni no Però insomma Fabri Fibra sta sulle palle chi? A Fabri Fibra sta sulle palle Penso un po' tutti No No lui No lui sta A lui chi gli sta sulle palle? Penso un po' tutti Gli sta sulle palle tutti eh Anche a voi Vi ci ha buttato dentro pure a voi No dicono che Finché non diventava famoso Aveva un senso Da che poi Ti è diventato commerciale No 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 Ma io guarda Sono d'accordo con te eh No ma noi non diciamo queste cose È proprio È un commerciale fatto bene È piacevole da ascoltare Va bene Va bene Non esiste commerciale underground Infatti il vostro stile Cioè si può dire anche quasi Commerciale Abbastanza radiofone Commerciale radiofonica Eh sì 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 Lo penso anch'io Cioè Alborosi Queste cose così Insomma Alborosi Siamo un po' su quello stile là Mi piace Io ci sto dentro Va bene Io per ora direi anche Che vi possiamo anche salutare Ma ritornerete In chiusura Perché vi voglio Vogliamo chiudere In bellezza Così Allora Family Connection live By Night Roma Stay tuned Bravissimo Quindi restate in linea con noi E non mi rupate No lui è spettacolare Cioè proprio Mi piace perché Aspetta io perché sto facendo Duemila cose Tutti noi qua hanno in diretta È una frenesia Il bello della diretta È il bello della diretta Sì 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 Allora ragazzi È stato un piacere Ma è un piacere che ritornerà Quindi voi che siete in macchina E state girando Dopo Verso quindi le tre Ma non saranno le tessera Prima delle tre Chiuderemo proprio in stile estivo Perché voi tornerete Sabato sera In piena estate E vi faremo sentire La dancehall estiva Di By Night Roma Ma abbiamo tanti da far sentire Perché il secondo pezzo Sarà più tranquillo Sarà più una buona notte Il pezzo si chiama La notte Dunque Allora vi daremo La buona notte Stile Family Connection Altro che gente Della notte Di Giovannotti Ecco tanto per vedere Io penso che la notte Sia un titolo Molto ripetitivo In tutti gli stili Dal pop A tutto Ha ragione Ha ragione Ha ragione Radio Radio By Night Roma 104.5 Grazie a tutti